La linea sottostante Se non è stato ancora possibile di elettrificare tutta la rete, sulle opere d'arte non si è badato a spese. Archi, viadotti, gallerie con luci laterali. La direzione è in grado di assicurare agli enti pubblici e privati il trasporto di qualsiasi merce, dai carri armati al carburante. Con due dita si fa ruotare una locomotiva. E la frutta che c'entra. E la ferrovia nei suoi audaci sviluppi ha esteso le linee fino in dispensa. Mamma si lamentava che il figlio con le sue benedette strade ferrate le invadesse la casa. Ora si accorge di avere un treno a tutto servizio. Se la cameriera vi dà gli otto giorni, rivolgetevi a un negozio di giocattoli. Acquistate un trenino elettrico tutti serviti, chi la mela e chi il fiasco.